Amici di YouTube, ben trovati da Marco Liguori. La terra torna a tremare in Italia in un momento in cui la tensione è altissima, in cui tutto il mondo è preoccupato per ciò che sta accadendo in Giappone. Nel momento in cui vi parlo, il sisma nella terra del sollevante ha fatto registrare oltre 65 morti. Prima di iniziare vi ricordo che a 200 like pubblicherò immediatamente un nuovo video. Amici di YouTube, in questo video ci focalizzeremo su ciò che sta accadendo in Italia e segnaliamo una ascossa di terremoto. In data odierna la ascossa ha colpito Corinaldo in provincia di Ancona. Il sisma di magnitudo 3,0 della scala Rittera ha colpito poche ore dopo la mezzanotte e fortunatamente al momento non si registrano danni tra persone o cose. Tuttavia ricordiamo che le Marche sono una zona ad alto rischio sismico. Il secondo lei Marco Liguori monitorerà questo ed altri terremoti e vi terrà aggiornati su ciò che sta accadendo in Giappone e nel resto del mondo. Amici di YouTube, io vi ringrazio per l'attenzione. Lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video, seguitemi anche sul primo gale di Marco Liguori. Ciao a tutti.